PANDORA Coordinate per incontro in volo Roger, ho già mobilitato una squadra Ci siamo, Cormac Attacco diretto ad Atlas Poi uscirete dall'Umbra Sentinel-2-3 in approccio finale Ricevuto, Sentinel-2-3 Massima priorità al carico Tutto il resto è sacrificabile Affermativo Kingpin Ci uniremo a Guardian-5 al punto d'arrivo per acquisire il carico Sentinel-2-3, chiudo Attivare guanti magnetici Ok, Mitchell, facciamoli atterrare Occhio, Andrew Aiutati con i guanti magnetici A carica Piazzata Al mio segnale Ora 10 secondi Andiamoceli in fretta Mi sta inclinando C'è mancato poco Ok, vede Paracalute fuori Carico in arrivo Procediamo Ricevuto, Sentinel-1 Guardian-5 a terra Pronti a ricevere Abbiamo il vostro segnale Sentinel-2-3 Controllo Drone in arrivo Kingpin Versioni di Atlas Ancora nessuna attività dalla loro piattaforma orbitale C'è lì, c'è turma Stiamo scendendo da te, Ilona Faccio saltare il portello A che punto siamo? La squadra di recupero è dentro e sta acquisendo il carico Attenzione, rileviamo un contingente Atlas in avvicinamento Lancio le cartone alle vostre cordine Sertine 2 Portare il carico sull'arri a 5 Sono puntuali Rilasso le cartone alle vostre cordine Guardate il portello Giante belle Coltato ore una A destra! Voltato! Ic! Contro! Siamo carabbi vendite! Se il giro in giro non ce la faranno! Avanti fino a Cargher 5! Uomo a terra! Non arriveremo mai! Dai a Guardian 5! Raggiungiamo il carico! Occhio! Inferno a terra! Uomo a terra! Contatto! More una! Non posso in carico! Invectivo Gartian 5! Tieni il culo a terra! Abbiamo in carico! Gargher 5! Abbiamo in carico! Attendi! A terra! Fuoco a terra! Fuoco a terra! Fuoco a terra! Fuoco a terra! Cazzo! Siamo troppo in profondità. Dobbiamo arrivare al carico. Qui sembra esserci un'apertura. Bene, muoviamoci. Luci! Qui si gela. I regolatori termici fanno gli straordinari. Solo ghiaccio. Andiamo. Qui sotto si congela. L'avete sentito? Non può sopravvivere a lungo. Non sparate. Rimici in vista. Negativo. Nessuna traccia degli operativi sempre. Negativo. Stanno mobilitando i warbirds. Nessun rapporto dalle altre squadre. Giù scendiamo e più il segnale diventa debole. Ilona, in basso a destra. Io, a sinistra. Mitchell, i tuoi più in alto. Quando vuoi, Mitchell? Vedo un'uscita. Andiamo! Attenzione! A.S.T. Ha preso Mitchell! Occhio! Non ha visuale! Mitchell! Giù! Mitchell, distrugge il ponte! Giù! 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 Che ci sono io! Dobbiamo tornare in superficie Potremmo seguire l'acqua di qua Non abbiamo molta scelta Io davanti, poi Mitchell Ilona, guardaci le spalle A tutte le unità, senti delle in ascolto Quintarge la 5 Abbiamo tutto il mio indecenuto Rituriamo l'estrazione all'estata Mi sto congelando le palle I regolatori termici non servono Occhio ai livelli di temperatura L'acqua si alza, serve un'uscita Vedo una luce Dobbiamo immergerci Attenzione Arrivano altri nemici Avanzare Distruggiamoli Arrivano altri nemici Sbrighiamoci Avanzare Libero Vedo un'uscita Andiamo Guardian 5, qui Sentinel 2-3 Mi ricevete Sentinel 2-3, dove cazzo siete? Ci sparano addosso varie vittime Serve un'estrazione immediata Il comando non risponde Quel fumo Deve essere l'elicottero Dai, muoviamoci Massima prudenza Si alza il vento Contatto Sono dei droni Kingpin Qui Sentinel 2-3 Guardian 5 è il carico E ci avviciniamo alla sua posizione Ricevuto Usa le MP, Mitchell Ricevuto Sentinel 2-3 Ragioniamo l'esposto Non sono partita le porte altre Ripeti Kingpin Recupero possibile Ordinati impostate Unità di batteria in arrivo Manca poco Contatto più avanti Cazzo Hanno il carico Kingpin Qui Sentinel 2-3 Guardian 5 è K.O. E Atlas ha il carico Intercettiamo Ricevuto Mezzo di recupero in arrivo Io scendo e creo un diversivo Tu fai piazza pulita, Ilona Spara quando siamo in posizione, Ilona Quando vuoi, Mitchell Fuoco! Avanti! Ci serve quel carico! Mitchell! Altri vicino al carico! Venetele occupati! Il carico è più avanti Andiamo Vi serve copertura Apro il fuoco Mitchell! Altri vicino al carico! Sistemati Via libera Quaggiù! Dobbiamo avanzare! Il Vito non deve decollare! Coprimi! Nemici in arrivo da Ovest! Dai! Raggiungiamo il carico! Metteli! Fidatevi! Gideon! Atlas 1, rapporto! Qui Atlas 1 Juarez e Mykos perduti Cosa? Perché adesso? Potevi scappare da New Baghdad con noi? Così ora non saprei niente C'erano troppe domande Dovevo trovare delle risposte Irons pianifica un attacco preventivo contro gli Stati Uniti Ha un'arma di distruzione di massa Biologica E noi dovremmo seguirti? Se volevo ucciderci L'avrebbe già fatto Irons ha tradito ciò in cui credevo Lo voglio morto quanto voi Se volete fermarlo Dobbiamo raggiungere il carico Subito Ok Facci strada Mitchell, Cormac Prendete gli Stinger e nascondetevi Atlas 2-1 pronto a recupero Operativi Sentinel neutralizzati Ricevuto, Gideon Hai un bel culo Ce ne stavamo andando senza di te Carico acquisito Affermativo Sicuro e intatto Agganciatelo Ma sparate solo al mio segnale Gideon Rilevo ponti di calore Sicuro di essere da solo laggiù Fuoco! Cormac, manda qualcuno! Mitchell, qui viene tutto Ecco il trasporto Stiamo arrivando Ci penso io Prendete il carico Mitchell, salta! Kingpin Carico è sicuro Abbiamo un ospite con noi Poi spiegheremo tutto Cormac, chiudo Prendete il filma Stai